Il periodo 1300-1500 Il corteo storico si apre con un bandieramento coordinato dalla compagnia di struttura a voi e sta bene, con esso si chiedono per provarci nella vita tradizione si può portare a voi solo per le domani di un anno a per l'interrazione il gruppo in Pagliatori, Stoletti Romani di Pugnano. Pagliatori, Stoletti Romani di Pugnano. Pagliatori, Stoletti Romani. Pagliatori, Stoletti Romani di Pugnano. Pagliatori, Stoletti Romani. 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 Pagliatori, Pagliatori, Stoletti Romani. 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 Pagliatori, Pagliatori, Pagliatori. Pagliatori, Stoletti Romani. Pagliatori, Stoletti Romani. Pagliatori, Pagliatori, Pagliatori. Pagliatori, 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 Pagliatori. Pagliatori, 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 Pagliatori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.